Viviamo nel paese dei balocchi, un paese dalle mezze verità. Un paese retto da inganni e falsi appagamenti, un partito al potere con il potenziale di cambiare l'Italia a un passo dall'utopico sogno di distruggere le mafie, un partito con la spada in mano e la piovre nera sotto al piede pronto a tagliarle la testa ma che finisce per tenerla a bada e quasi quasi a farle pure le carezze. Un partito che continua a promettere ma non ama molto mantenere le sue promesse. Forse quel profumo di potere gli ha dato un po' la testa come tutti i suoi predecessori. E allora cosa è meglio? Una destra mafiosa, fascista e criminale? Una sinistra all'aspetto dolce e tiepida ma in realtà omertosa che finisce per fare lo stesso gioco della prima? Di questo si tratta il Movimento 5 Stelle, il cosiddetto partito del cambiamento. Anche se poi il vero cambiamento non lo abbiamo ancora visto. Sebbene stimiamo molti i suoi membri, è evidente che certi suoi esponenti si stiano mostrando per ciò che realmente sono. Dei simpatici pagliacci! Caro Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in qualità di giovani cittadini abbiamo delle domande da porle. Perché nel 2018 offre al magistrato Nino Di Matteo, simbolo della lotta alla mafia, il ruolo di capo dell'istretto amministrativo penitenziario per poi, il giorno dopo, ripensarci e rimpiazzarlo con un altro magistrato di minore competenza? Chi li ha fatto cambiare idea durante quelle 12-24 ore? Chi è stato? Giusto in quei giorni, i mafiosi dal carcere urlavano chiedendo che Di Matteo non prendesse in mano quel ruolo e volente o nolente, sono stati accontentati. Due anni dopo, il capo dell'app da lei scelto, Francesco Basentini, si è dimostrato fallimentare dimettendosi, dopo non aver fatto nulla per evitare la scarcerazione di 376 mafiosi e criminali. Durante l'emergenza coronavirus. E di questo lei, ministro, ne è il diretto responsabile. Lo scandalo è uscito solo ora, quando ha scelto di nominare il dottor Petralia al DAP, facendo, ancora una volta, una scelta a nostro parere sbagliata. I 686 atti che ha firmato per il 41bis, una scorta per amica e altri meriti di cui si è vantato durante non è l'arena di Giletti, non sono delle giustificazioni. Scarcerare un solo mafioso è dare una battaglia vinta alla mafia. È dimenticarsi delle vittime di cui lei stesso, ministro, si fa portavoce. E di delinquenti pericolosi e mafiosi ne sono quasi 400. Ma lei si sveglia quando ormai è troppo tardi. Ancora una volta si dimostra chiaro e netto il modo in cui Di Matteo ed altri magistrati competenti, personaggi scomodi, vengono nella migliore delle ipotesi messi da parte, delegittimati ed emarginati con ruoli minori, con il tentativo vano di usarli come facciata di una lotta alla mafia imparziale e illusoria. Come hanno fatto con Falcone e Borsellino, assassinati dallo Stato mafia. La storia si ripete. Ancora una volta si dimostra che la politica non vuole sconfiggere la mafia. E neanche il ministro Malafede, e neanche il Movimento 5 Stalle, e neanche la sinistra ipocrita, tantomeno gli amici e gli staglieri mafiosi e loro alleati. Ai giovani come me dico, non accontentiamoci del meno peggio. Difendiamo il dottore Di Matteo ed altri suoi colleghi. Gli unici che oggi ci danno ancora la fierezza di essere italiani. E non dimentichiamoci che solo grazie al nostro impegno non potranno fermarli. Ma noi restiamo ancora con delle domande aperte. Che cosa è successo quella sera del 18 giugno 2018? Ministro Bonafede, prima dica la verità. E poi si dimetta. Buonafede, dica la verità. Buonafede, dica la verità. Buonafede, dica la verità.